Domani si torna in aula per il processo Emanuele Morganti, il giovane aggredito e massacrato di botte, il 26 marzo del 2017, all'uscita di una discoteca in pieno centro cittadino ad Alatri. Quattro gli imputati, Franco e Mario Castagnacci, Paolo Palmisani e Michel Fortuna. I primi tre di Alatri, il quarto di Frosinone, accusati di omicido volontario in concorso. Si sono già presentati davanti alla corte per la prima udienza. Hanno affrontato lo sguardo dei familiari del povero Emanuele, che ancora una volta aspettano soltanto che sia fatta giustizia. Hanno piena fiducia nella magistratura, non sede di vendetta, vogliono soltanto la verità. Chiedono di sapere il perché di un'aggressione così violenta da essere sfociata in un omicidio. In questi giorni è sorta anche una polemica sulla mancata Costituzione come parte civile da parte del Comune. Non è tardata però ad arrivare la spiegazione dell'amministrazione Morini, che ha precisato che si è trattato di una scelta motivata, consigliata e condivisa dagli avvocati appositamente incaricati. Il nostro interesse in questa vicenda, si legge in un testo ufficiale diffuso dal Comune, è che prevalga la verità dei fatti e che i colpevoli vengano giudicati e condannati severamente come meritano e come si aspetta la parte più colpita che è la famiglia. Gli amministratori proseguono ribadendo che questa è la linea che abbiamo seguito da subito e questa linea continueremo a seguire. Quindi non c'è stata alcuna dimenticanza o negligenza. Il Comune di Alatri non reclama una condanna per danni diretti derivanti dal fatto criminoso, ma soltanto il giusto risarcimento per i danni interdetti che tale fatto criminoso ha prodotto alla città.